Non sarà una passeggiata ma Mazzara deve portare a casa punti da Serra di Falco. Lo impone la classifica che dopo la vittoria del derby con il Marsala è un po' migliorata ma ancora distante dalla salvezza senza passare dai play-out. Bisogna crederci fino in fondo, dice il tecnico Dodo Bruculeri. Guai se non fosse così. La squadra affronterà questa trasferta con lo spirito giusto. Le ultime prestazioni ed anche i punti che sono arrivati hanno aumentato l'autostima. La squadra ha preso coscienza delle proprie forze e domani le metterà in campo per tentare una nuova impresa. Mazzara ha due squalificati importanti, il russo che è un under e l'esperto Walter Esposito, entrambi i difensori. Da chi saranno rimpiazzati, considerato l'organico ridotto al lumicino. Da chi saranno sostituiti, afferma Bruculeri, ancora non lo so. Ma certamente troverò delle soluzioni tra coloro che hanno giocato a corrente alternata oppure spostando di ruolo qualche giocatore. Sono certo comunque, continua Bruculeri, che qualsiasi formazione affronterà Serra di Falco, onorerà la maglia. Serra di Falco, formazione partita per vincere il torneo, si trova nella zona dei play-off e non vorrà perdere terreno. Nella partita di andata ha lasciato una buona impressione, ma poi cammin facendo ha perso un po' di terreno. Mazzara come affronterà l'avversario? Sono antagonisti forti, sottolinea Bruculeri, giocano sugli esterni, bisogna bloccare tutte le loro iniziative. Non sarà facile, ma i ragazzi faranno del tutto per riuscirci. È una partita decisiva? Tutte le cinque partite che restano fino al termine del campionato sono decisive, conclude Bruculeri. Ma sentiamo il capitano del Mazzara, Raffaele Palazzo. Sì, sicuramente. Serra di Falco è una squadra ambita a vincere questo campionato. Noi andremo lì ad affrontare a viso aperto le nostre partite, perché per noi siamo arrivati agli sgoccioli. Mancano cinque partite e in queste cinque partite dobbiamo cercare di fare più punti possibili, per cercare di agguantare questa salvezza e prepararci quindi al meglio per cercare di salvare questa squadra. È uno dei migliori momenti di forma del Mazzara. Tre risultati utili consecutivi, l'ultimo importantissimo nel derby contro il Marsala, una squadra che ha messo in campo davvero tanto cuore, sicuramente molto di più di quello che ha messo in campo invece la squadra marsalese. Però è arrivata la partita di domenica con due assenze importanti, mancheranno i terzini. Sì, intanto la partita col Marsala è stata una bellissima partita, un derby importante. Siamo riusciti a mettere il punteggio pieno dentro. Peccato per queste squalifiche. Abbiamo una di russo e una di esposito. Però dobbiamo cercare di stringerci il più possibile. Chiunque gioca sicuramente farà la sua onesta figura. Cercare comunque di andare domenica lì con il Serra di Falco e cercare almeno di non perdere.